pronto ciao quindi mi confermi quella cosa lì che sono da inizio campionato che mi stressate su sta cosa qui se 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 quindi adesso è confermato il coma in serie b promosso in serie b ha vinto 2 a 1 per lo scontro diretto con l'alessandria erano 69 a 68 i punti quindi va a 72 più 4 manca una giornata deve giocare col novara ma tanto ormai non conta più niente quindi è primo matematicamente serie b molto bene grande libidine doppia libidine doppia libidine coi fiocchi e si si fa subito il video e eravamo d'accordo no se il coma veniva in serie b se fosse stato promosso in serie b facevamo il video quindi si fa subito il video ciao allora ragazzoli si è confermato il como è la provincia che mi ha adottato diciamo visto che io su milanese no mi sono trasferito io qua ormai a domaso sono di di casa perché ci vengo da anni e anni e meglio che non penso quanti anni è che veniva domaso in vacanza e dal 2012 sono qua fisso quindi indi per cui se il como visto che sono in provincia di como viene promosso dalla serie c alla serie b è giusto farci un video perché la doppietta di gabrielloni oggi e l'autogollonzo di arrigoni ha fissato il punteggione sul 2 a 1 e questa vittoria permesso al como dopo un campionato duro 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 con le sfide anche correnate eccetera perché ogni tanto gli davo un occhio e poi ho guardato anche la situation vincere il campionato di serie c è una botta immonda perché è vero che dalla seconda alla decima o addirittura all'undicesima dipende qual è la squadra che arriva a quarta la quarta col miglior punteggio fa sì che l'undicesima anche l'undicesima possa partecipare ai playoff quindi figuratevi che ma c'è al 24 squadre che partecipano ai playoff si sfidano l'una con l'altra e una sola una su 24 verrà promossa poi in serie b oltre alle tre che dovrebbero salire che sono il como che festeggiamo il festeggiamo questo como che è in serie b promosso adesso ci deve restare però deve restare provare ad andare in serie a non che fa serie b serie c poi sta in serie c ma in serie di poi torna in serie c poi viene promosso in serie b poi ritorna in serie c no deve rimanere in b salvarsi comodamente e piano piano puntare al colpo grosso come si diceva una volta comunque stavo dicendo questa serie c è tosta perché la ternana è già promosso 90 punti ha fatto un campione nel girone c ha giocato praticamente da sola 90 punti su 38 37 partite perché manca ancora una quindi le altre sono a 60 67 68 ha già vinto il campionato da mo poi c'è perugia o padova padova o perugia che sono a pari punti a una giornata dalla fine non ho guardato con chi devono giocare però o perugia padova verranno direttamente una delle due andrà direttamente con ternano e como in serie b la cosa bella è che il livorno va in serie di a che bello mi spiace per quelli del livorno però beh è una questione così e va bene comunque viva il como che torna in serie b era giusto giustissimo fare il video su questo como su questo gabrielloni che mi fa la doppietta ho guardato punta centrale però quest'anno 12 gole un po pochini e 12 gol in 34 partite perché stavo vedendo transfer mark ha fatto 12 gol in una punta in serie c me ne devi fare molti molti di più a meno che non ho visto male erano 22 gol in 34 partite forse erano 22 gol in 34 partite sì no forse erano 22 gol in 34 partite e allora fa libidine eh sì è tanta roba però non lo so il como sicuramente deve presentarsi in serie in serie b con una bella squadra con una squadra che non dico punti subito alla promozione ma che comunque possa fare un campionato rilassante ecco per intenderci in zona playoff non play out playoff stare lì nella zona playoff e poi se si riesce ad andare ai playoff è comunque tanta roba certo la serie c ho guardato ma non dice le dieci no quindi dalla 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 seconda alla decima si giocano seconda decima seconda decima seconda undicesima poi si sfidano a divise no quindi dalla settima alla decima si sfidano tra loro dalla settima l'undicesima quello che è chi passa va a sfidare quelle fino a che poi si arrivano agli scontri diretti le une contro le quelle che avanzano faranno gli scontri un disastro cioè uno uno fa un campionato tranquillo non mi spreco arrivo settimo ottavo però sono al top del top del top perché non mi sono sforzato più di tanto a tutti i giocatori che stanno bene mi faccio i playoff da libidine e vengo promosso gli altri si sono fatti il mazzo magari si sono lottati appunto appunto il primo posto arrivano secondi che non ne hanno più fanno i playoff e vengono eliminati e la squadra che magari succede in serie b è un successo spesso è che la squadra che non è arrivata terza andava se in serie a e quella che era arrivata terza lo prendesse nel curucu curucu paloma comunque ragazzoli il como torna in serie b la ternana torna in serie b e o perugio padova per ora poi vedremo i playoff come andranno che ci vorrà un mese prima che finiscono tutti i playoff hai voglia devo fare gli partiti poi devono fare anche i play out che l'ultima va direttamente poi la quintultima la quale un mascello un mascello abbiamo voluto fare questa cosa estemporanea facciano pure pensate se lo facessero in serie a arrivi primo poi dopo lo scudetto lo può vincere anche la decima perché fanno gli scontri diretti l'unica cosa positiva è che la partita è unica e in caso di pareggio nei 90 minuti non ci sono né supplementari né niente passa la squadra con la miglior classifica quindi chi è dietro deve vincere vincere in casa probabilmente della squadra che gli stava davanti è vero che tanto cambia poco perché sta di vuoti non c'è nessuno oggi a como hanno dato il permesso a 100 tifosi 100 li hanno contati e dovete essere in 100 se siete in 101 come la carica vi diamo il multone comunque c'erano 100 tifosi del como ad aspettare la squadra che arrivava col pullman per dargli la carica un po come fecero prima del derby interisti e milanisti no che si sono trovati fuori dallo stadio per incitare i loro beniamini e gliene andette di tutti i colori oggi c'era lasciamo perdere le questioni politiche preferisco sorvolare comunque ragazzoli io vi saluto vi ringrazio il como torna in serie b adesso speriamo che allestisca una squadra degna della serie b in modo da non tornare subito in c l'anno prossimo magari anche con un mese di anticipo come è successo l'ultima volta che ci ha messo un po è a tornarci in serie b quindi speriamo in bene speriamo che chi di dovere sappia prendere i giocatorini giusti per fare un buon campionato un miss magari di giovani che hanno voglia di crescere e di fare bene magari dalle big che hanno qualche giovincello da dare e far giocare perché tanto per darli alle squadre di serie a che li tengono in panchina quattro mesi per poi darli in prestito a gennaio in serie b mandali direttamente in serie b e almeno giocano comunque ragazzoli io vi saluto vi ringrazio come promesso il como torna in serie b il gigione fa il video per il como che torna in serie b ciao